Alpha Design è una finitura altamente decorativa indicata per applicazioni su superfici e l'interno per conferire un attraente effetto estetico di aspetto metallico. Per ottenere questo effetto sono necessari due rulli, uno a pelo medio e uno a pelo corto, un pennello a setole morbide, una spugna sintetica, un pennello per profilare bordi ed angoli. Prodotti Fondo Fondo Alpha Design Finitura Alpha Design Verificare che il supporto sia pulito, asciutto, privo di polvere o crepe. Prima dell'applicazione dei prodotti le superfici devono presentare una tessitura regolare. Su supporti nuovi o molto assorbenti utilizzare un adeguato prodotto di fondo. Diluire fondo Alpha Design al 40% in volume con acqua e mescolare bene. Applicare fondo Alpha Design nel colore bianco con un pennello a setole morbide, operando a pennellate incrociate. In alternativa, applicare fondo Alpha Design diluito al 30% in volume con acqua, utilizzando un rullo a pelo medio. Mentre il prodotto è ancora bagnato, utilizzare lo stesso rullo per orientare le rullate tutte nello stesso senso. Applicare una seconda mano di fondo Alpha Design, seguendo le stesse modalità della prima. Prima Prima di applicare Alpha Design, se necessario, diluirlo fino al 10% in volume con acqua. Applicare il prodotto nel colore desiderato con il rullo a pelo corto e distribuirlo, mentre è ancora bagnato, mediante la spugna sintetica, operando con movimenti circolari per ottenere l'effetto desiderato. Importante Per evitare problemi di giunte, si consiglia di lavorare in due persone. Una applica Alpha Design al rullo a fasce verticali e l'altra lo distribuisce con la spugna. Applicare una seconda mano di Alpha Design, seguendo le stesse modalità della prima. Mentre il prodotto è ancora bagnato, utilizzare un pennello umido a setole morbide per rimuoverne l'eccedenza da spigoli e angoli. Alpha Design può essere facilmente pulito con una spugna morbida, utilizzando acqua addizionata con i comuni saponi e detergenti neutri. Alpha Design trasformerà i vostri ambienti in un nuovo stile, dove Moderna Design si fondono insieme per un prezioso look metallico. Per concludere, una sintesi delle fasi principali. Attrezzatura Due rulli Uno a pelo medio e uno a pelo corto Un pennello a setole morbide Una spugna sintetica Un pennello per profilare bordi ed angoli Prodotti Fondo Fondo Alpha Design Finitura Alpha Design Ciclo di applicazione Due mani di fondo Alpha Design, attendendo 4 ore tra l'una e l'altra Essicazione 12 ore Due mani di Alpha Design, attendendo 4 ore tra l'una e l'altra Un pennello per profilare bordi ed angolo 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 per